A decidere il futuro di Zeman saranno le sue condizioni di salute che al momento sono stabili. Domani il Boemo sarà nuovamente ricoverato nella clinica Pierangeli per accertamenti. Sembra scontata l'operazione alla carotide, probabilmente nella giornata di lunedì. Poi si vedrà. L'ultima parola dunque spetterà ai medici. Il Boemo può rischiare un lungo stop. In questo caso il club dovrà decidere se lasciare il vice Bucaro in panchina oppure ingaggiare un nuovo allenatore. Discorso naturalmente prematuro. Inutile avventurarsi. Intanto domenica prossima alle 20.45 trasferta sul campo della Bis Pesaro. Merola resta in dubbio. La risonanza magnetica di controllo al ginocchio ha dato esito negativo. Solo un Edema, figlio dello scontro col portiere della SPAL Galeotti nel turno infrasettimanale di martedì scorso. Ieri l'ex Foggia ha lavorato in palestra. Questa mattina era in programma un provino ma non si è allenato. Al rientro di Pasquale Brosco, squalificato a Loi, migliorano le condizioni di Accornero. L'attaccante tornerà in gruppo tra una decina di giorni. Servirà invece più tempo per Vergani. A Pesaro assai verosimile l'utilizzo di Tuniov, reduce da due esclusioni di fila. Nell'ultima sfida con la SPAL, l'Eston è rimasto in panchina per gli interi 90 minuti. Finora solo 12 presenze da titolare. Nella bis Pesaro, dopo le rispettive squalifiche, tornano a disposizione di Paola e Ierbolino. Ancora ai margini, per infortunio, lo statunitense De Vries. Buone chance di recupero per l'esperto difensore centrale Denis Tonucci. Tre gli ex Valdifiori, Pucciarelli e Nicastro, arrivato a gennaio del Pontedera. Sistema di gioco 4-3-1-2. In casa la squadra di Banchieri ha vinto appena due partite. L'ultima addirittura lo scorso 22 ottobre contro la Re Canatese.